Renato Zero ha annunciato che pubblicherà tre album di inediti entro la fine dell'anno per festeggiare i suoi 70 anni. Il progetto include una quarantina di canzoni con il primo disco in attivo già a fine settembre. Le date di pubblicazione per il resto della trilogia non sono ancora state rilasciate, ma si parla che gli altri due album verranno pubblicati a fine ottobre e novembre.